E' arrivato sulla Sicilia orientale l'uragano Pollo, mareggiate a Catania e Siracusa, isolata Augusta, interrotte autostrade e ferrovie, venti a 150 km orari. Il centro è lo mediterraneo sui cambiamenti climatici, economia in rosso senza interventi drastici sui gas serra, meno 4% del PIL entro il 2050 e meno 8% entro il 2100. Anche in Italia il Covid dà segnali di ripartenza, balzo, DRT, incidenze e ricoveri. Da 4 a 18 le regioni a rischio moderato, proiezioni di recrudescenza epidemica. Una manovra per un paese che cresce, così Draghi giorno dopo l'approvazione in CDM della legge di bilancio e il PIL sale del 2,6% nell'ultimo trimestre, oltre la media europea. Roma blindata per il G20, stamane Biden dal Papa, poi vertice con Draghi. Grazie per l'anno!